Ciao io sono Tommaso e oggi impariamo a fare una stabilizzazione dell'immagine con DaVinci Resolve Esattamente la domanda mi è stata fatta da Ivan C che ringrazio perché così mi permettete di creare nuovi contenuti settimanalmente quindi se avete delle domande, delle informazioni che volete conoscere o quant'altro sappiate che basta scrivermi a info-tommasocodoro.com per vedere se riesco poi ad organizzarmi e inserire dei nuovi tutorial all'interno del canale YouTube qui sotto comunque trovate i link per poter farmi tutte le domande che volete ma bando alle ciance andiamo a dare un'occhiata dove si trova la stabilizzazione delle immagini su DaVinci Resolve via, eccoci qui, vi faccio vedere quello che voglio andare a stabilizzare ovvero questa immagine qui e questa immagine qui vedete che entrambe sono abbastanza tremolanti perché le immagini sono state girate con la Sony Alpha 6300 a mano con il 18-105 seppur la stabilizzazione elettronica dell'obiettivo permettesse di lavorare abbastanza bene un po' poi in post-produzione c'è da fare o lo stabilizzatore di DaVinci Resolve non fa miracoli partiamo da questo presupposto se volete qualcosa che faccia miracoli vi consiglio di dare un'occhiata a Real Steady che non è un plugin per DaVinci Resolve ma è un plugin per After Effects oppure Real Steady Go se invece utilizzate GoPro perché è un ottimo stabilizzatore su cui probabilmente farò anche una recensione, un tutorial, qualcosa per farvi vedere come funziona perché vale veramente la pena però non è gratis Real Steady come plugin di Adobe costa 399 dollari come stand alone, quindi programmino però che può solo stabilizzare le immagini di GoPro costa 99 dollari quindi torniamo sulla nostra timeline e diamo un'occhiata a dove dobbiamo spostarci non ci interessa la sezione Edit per andare a fare la stabilizzazione ma ci spostiamo nella sezione invece Color se non conoscete bene le pagine Media, Edit, Fusion, Color e Deliver vi consiglio di dare un'occhiata al sito www.tommasocodolo.com nella sezione Corsi avrete la possibilità di scaricarvi sia alcuni corsi gratuiti sia il corso completo a pagamento di DaVinci Resolve ritorniamo sulla timeline se andiamo ad attivare questo pulsante qua all'interno della pagina Color avremo la possibilità facendo play di vedere in loop costantemente il nostro clip di modo che possiamo anche valutare se va bene o non va bene l'effetto che abbiamo messo la correzione che abbiamo fatto anche a livello di colori dove si trova la sezione della stabilizzazione conosciamo bene Color dove abbiamo le wheels per la correzione colori e bilanciamenti del bianco e questa parte centrale che invece è dedicata alle curve piuttosto che ai qualifier alle maschere, alle power window e al tracking è proprio all'interno della sezione Tracking che andremo a trovare la parte dedicata alla stabilizzazione qui dove c'è Window se noi clicchiamo qui troveremo Window Stabilizer and FX a noi interessa Stabilizer ci clicco sopra e vedete che è cambiata la nostra pagina difatti eravamo su questo ora siamo su Stabilizer e qui siamo su FX quindi sia con questi tre pulsanti qui sia con il menu a tendina qui è abbastanza semplice il funzionamento perché se vedete io mi sposto con la timeline e sotto si sposta la nostra freccia ok io posso anche spostarmi da qui abbiamo la possibilità di gestire il cropping ratio la quantità di crop dell'immagine che vogliamo croppare la smoothness quindi la morbidezza del crop dell'immagine che possiamo andare a croppare e la forza con cui andare la quantità diciamo di stabilizzazione che vogliamo andare ad ottenere tendenzialmente la cosa che ho notato è che cropping ratio, smooth e strength sono abbastanza buoni anche nelle condizioni di default ma abbiamo la possibilità comunque di spostarci da più 0,25 a più 1 per il cropping ratio cliccando due volte si a 0 smooth ci permette di spostarci da più 0,25 a 1 anche lui e strength ci permette di spostarci da meno 1 a più 1 a fianco avremo camera lock e zoom camera lock serve nel momento in cui noi vogliamo andare a creare un'immagine magari abbiamo un'inquadratura che doveva essere a cavalletto ma non avevamo il cavalletto a mano quindi siamo fermi con la nostra telecamera posizionati in questa maniera ma un po' comunque di vibrazioni o di spostamenti li avremo cercheremo di andare a fissare l'inquadratura nella miglior maniera possibile tramite appunto questa opzione di camera lock altrimenti la camera lock non serve perché andrebbe a croppare tantissimo l'immagine che stiamo andando a lavorare ma diamo un'occhiata effettivamente come funziona sul campo prendiamo la nostra clip l'abbiamo già selezionata e andiamo semplicemente a dirgli di stabilizzarla vedete che c'è una video stabilization un'analisi della video stabilization avete notato che c'è stato un leggero cropping dell'immagine quindi l'immagine è stata leggermente allargata in confronto a prima abbiamo ristretto il quadro della nostra clip e andiamo a dare un'occhiata dando play a come è diventata ve la faccio rivedere senza la stabilizzazione per vedere come era senza la stabilizzazione basta cliccare bypass stabilization e vedete la differenza senza stabilizzazione con la stabilizzazione ok torno indietro quindi comando z se non conoscete le varie shortcut vi consiglio di segnarvele ogni volta che ne dico una e una cosa che non vi avevo mostrato prima era questo piccolo pulsantino qui che va anche lui a tendina dove abbiamo la possibilità di scegliere la tipologia di stabilizzazione perspective similarity o translation personalmente le provo tutte e tre tanto per quello che costa ci conviene tentare a vedere tutte e tre le stabilizzazioni come vanno a lavorare quindi testiamo la similarity e diamo uno stabilize in virtù della tipologia di inquadratura migliorerà o peggiorerà la tipologia di stabilizzazione diamo un play quasi quasi preferisco questa mi sembra meglio della precedente e diamo un'occhiata anche alla terza tipologia comando z per tornare indietro che è translation stabilize di solito translation non dà delle grosse soddisfazioni ma diamoci un'occhiata fa anche lui un leggero crop ritorniamo all'inizio e gli diamo play vedete translation non mantiene l'orizzonte pulito quindi non sta lavorando in maniera positiva vi faccio vedere che cosa farebbe giusto per farvi capire di che cosa stiamo parlando con perspective anzi similarity che era quella che ci piaceva di più cosa succede se diamo anche un camera lock quindi andiamo a bloccare la stabilizzazione guardate bene l'immagine vedrete che farà uno zoom eccessivo perché cercherà di mantenere una sorta di cavalletto di tripod di do play vedete che però non riesce a mantenere l'inquadratura corretta ok comando z per tornare indietro e ci spostiamo su un'altra anzi manteniamo lo stabilize senza il camera lock se togliessi lo zoom giusto per farvi vedere che cosa succede e cliccassi stabilize non mi andrebbe a fare gli zoom mi terrebbe i crop laterali date un'occhiata all'immagine mi avvicino un po' così potete vederla vedete che i bordi continua a spostarmeli quindi lo zoom mi serve principalmente per andare a mantenere il corretto crop dell'immagine all'interno della mia stabilizzazione tutto qua stop vedete che ora abbiamo i bordi corretti ci spostiamo su un'altra immagine ad esempio questa che è anche questa è leggermente mossa vedete e continua a un po' a oscillare no? su e giù cerchiamo di migliorarla andiamo a proporgli una stabilizzazione in similarity come prima andiamo in perspective andiamo in ordine manteniamo il crop in ratio lo smoothness e lo strength e gli diamo stabilize ci mette un po' di più perché è un po' più lunga questa clip vedete che ha fatto anche qui un crop qui abbiamo la gestione degli assi possiamo vedere come lavora anche con lo spostamento degli algoritmi della telecamera gli diamo play e direi che è veramente migliorato un bel po' si è ammorbidita tantissimo l'immagine ve la mostro di nuovo anche senza la stabilizzazione c'è questa titubanza qua che è notevole quando passo proprio con il gatto di fronte ora se invece vado in stabilizzazione guardate quando passo con il gatto di fronte come rimane invece morbida e non ho più titubanze facciamo un test aumentando la smoothness quindi gli diamo più morbidezza vediamo che cosa succede accroppato di più l'immagine e vedete che rimane completamente lineare l'inquadratura ovviamente a discapito dell'inquadratura del campo di inquadratura dell'immagine tolgo bypass e vedete la differenza però la qualità poi della stabilizzazione è notevolmente migliorata ci spostiamo su un'altra inquadratura che potrebbe essere questa dove in realtà sono rimasto abbastanza fermo è una slow motion però vedete che il gatto non è rimasto sempre nello stesso punto se io volessi creare una condizione tipo da cavalletto in questo caso andrei a inserire il camera lock vedete che mi inibisce il cropping ratio lo smooth e la strength perché ovviamente è lui che decide come andare a bloccare il nostro cavalletto la nostra immagine a cavalletto ha fatto un crop mostruoso non so se l'avete visto ve lo rimostro guardate che roba però il gatto è fermo inchiodato al centro dell'inquadratura prima era così bene direi che abbiamo terminato anche questo tutorial spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile scoprire dove si trovava quel piccolo pulsantino chiamato stabilize fa un buonissimo lavoro dal mio punto di vista e si riesce a lavorare veramente bene su immagini che però non sono mosse in maniera eccessiva altrimenti non riusciamo ad ottenere una stabilizzazione valida come quella che potremmo riuscire ad ottenere tramite appunto un plugin come real steady però all'interno di da vinci resolve abbiamo anche la possibilità di fare stabilizzazione dell'immagine in maniera professionale non mi resta che salutarvi ricordatevi di iscrivervi al canale di cliccare la campanellina per rimanere informati su tutti i video che usciranno prossimamente date un'occhiata anche al canale instagram date un'occhiata anche al canale telegram qui sotto trovate tutte le informazioni in descrizione ci vediamo con il prossimo video ciao